Ad Agropoli sta per tornare l'autovelox? È una domanda che sta preoccupando molti i cittadini agropolesi e i cilentani. Nei giorni scorsi, infatti, sulla Cilentana sono state installate delle videocamere per il costo di 488 euro a settimana, che hanno fatto discutere, e non poco, la cittadinanza. Il sindaco Roberto Antonio Mutali Passi aveva detto che quei dispositivi sono utili solo per dei semplici rilevamenti da inviare alla Prefettura di Salerno. E solo in seguito, qualora i dati dovessero essere preoccupanti, potrebbe esserci la remota possibilità dell'installazione di un autovelox. A smentire il sindaco, però, è il suo stesso comandante di polizia locale, Antonio Rinaldi, che in determina ha stanziato quei fondi e conseguente istruttore autorizzativa all'installazione di dispositivi per violazioni di comportamento ex articolo 142 e 148, per l'appunto sulla SP430. È facile capire dunque che l'iter per l'autovelox è stato avviato e che nei prossimi giorni esso tornerà sulla Cilentana. In campo è sceso l'avvocato Giuseppe Russo, che già in passato si era abbattuto per difendere gli automobilisti multati da quello che fu l'allora sistema di rilevazione. Chiederemo l'accesso ai atti, ha detto, e faremo in modo che l'intenzione del Comune di Agropoli non si verifichi. In ogni caso, i sette giorni di noleggio scadono all'inizio della prossima settimana e qualche novità potrebbe esserci già a stretto giro.